buongiorno a tutti e a tutti io sono alessandro perissinotto insegno storytelling nell'università di torino e quindi mi occupo di comunicazione ed è proprio la comunicazione il trade union tra la mia dimensione professionale e lo strano ruolo che assumerò in fame lab un ruolo che assomiglia quello di un giudice in un talent show forse esagero forse fame lab non è esattamente un talent show però però ci assomiglia ed è per questo che secondo me dovreste partecipare perché è un'occasione per portare in scena la scienza per farla uscire dai laboratori per farla uscire dai libri e per regalarla a un pubblico più vasto sì usiamo portiamola in scena l'appuntamento quindi è per l'11 maggio 2022 al cubo teatro in via pallavicino 35 a torino vi aspettiamo